Brooke è travolta dagli eventi, mentre Ridge è pieno di angoscia. Benvenuti amici su Serie TV nel mondo. Nel nostro ultimo video, vi sveliamo le ultime novità della SOP. Se ti piace, lasciaci un mi piace e iscriviti. Grazie di cuore. Le nuove vicende di Beautiful svelano che Thomas potrebbe avere piani più oscuri oltre all'accusa mossa contro Brooke riguardo alla segnalazione ai servizi sociali. Anche se Thomas sembra aver cambiato faccia, in realtà non ha smesso di usare tattiche ingannevoli per raggiungere i suoi obiettivi. Pare che sia pronto a tutto pur di avere ciò che desidera, senza pensare alle ripercussioni sugli altri. Thomas ritiene che Brooke sia un ostacolo tra Taylor e Ridge. In passato, ha fatto credere a Ridge che Brooke fosse dietro la segnalazione ai servizi sociali contro di lui. Questo ha spinto Ridge a distaccarsi da Brooke e avvicinarsi a Taylor. È chiaro che Thomas farà di tutto per mantenere Brooke distante da Ridge, per proteggere il suo legame con Taylor. Sembra determinato a dividere la coppia finché non sarà troppo tardi per loro. Nel mezzo di tutto ciò, Brooke è devastata, incapace di capire cosa sia realmente successo. Si ritrova senza Ridge, senza una ragione chiara. Si chiede se Ridge non le debba almeno una spiegazione per il suo comportamento. Dopo essere stato allontanato da Ridge, Brooke si sente persa. Ha cercato sollievo nell'alcol, mostrando segni di dipendenza, e ha anche pensato a gesti estremi. Si è confidata con Hop, l'unica persona con cui sentiva di poter parlare. In sintesi, Brooke è ancora alle prese con il comportamento inaspettato di Ridge. Non riesce a trovare una ragione, soprattutto perché Ridge è noto per le sue scelte impulsive. Brooke è sconcertata e non riesce a comprendere le mosse di Ridge. Poco tempo fa, Brooke vedeva un barnume di speranza nel suo rapporto con Ridge. Ma ora, quella speranza sembra svanita. Il suo legame con Ridge è in bilico e rischia di perdere tutto. Se non scoprirà presto cosa sta succedendo, potrebbe rivelarsi che Thomas sia dietro tutto, portando a una frattura tra Brooke e Ridge. I Forrester sembrano avere un'antica avversione per i Logan e non sembrano volere il meglio per le donne Logan. Ma è bene ricordare che i segreti non restano sepolti a lungo. È ora che Brooke sveli la verità. Grazie a tutti.